Potrebbe essere doloso l'incendio che ha seriamente danneggiato la villetta di via Guenizzo a Montagnana destinata ad accogliere una decina di profughi. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. L'abitazione appartiene ad un privato che ha raggiunto un accordo con la prefettura di Padova per ospitare richiedenti asilo, il cui arrivo ora sarà con tutta probabilità posticipato. I danni provocati dal rogo scoppiato nella notte tra sabato e domenica sono seri. Le fiamme, viste da alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme, dal sottoportico si sono estese all'interno dei locali, in parte del piano terra e del piano superiore. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e messe in sicurezza dello stabile per circa due ore. Sul posto anche i carabinieri.